C'è questa grande meraviglia, questo sacerdozio di Gesù in tre tappe, quello che perdona i peccati una volta per sempre, quello che intercede adesso per noi e quello che succederà quando lui torni, ma anche c'è il contrario, l'imperdonabile bestemmia. E' duro sentire Gesù dire queste cose, ma lui lo dice e se lui lo dice è vero. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli delle uomini. Noi sappiamo che il Signore perdona tutto se noi apriamo un po' il cuore su tutto. I peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, anche le bestemmie saranno perdonate, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. Il Signore perdona tutto, ma chi dice queste cose è chiuso al perdono, non vuole essere perdonato, non si lascia perdonare. Questo è il brutto della bestemmia contro lo Spirito Santo, non lasciarsi perdonare, perché rinnega l'unzione sacerdotale di Gesù che l'ha fatto lo Spirito Santo.